Musica Affrontare i percorsi quotidiani a piedi o in bicicletta è una pratica virtuosa che necessita però di sicurezza per evitare gli incidenti sulle strade. È stato questo il tema del convegno Camminare e andare in bici sicuri, organizzato nell'ambito della settimana europea per la mobilità sostenibile, partendo dai dati Istat. L'anno 2018 di cui abbiamo pubblicato i primi dati di recente purtroppo sottolineano che non si è riuscita a mantenere una linea decrescente adeguata per raggiungere al fine di questo secondo decennio di politiche sulla sicurezza stradale e gli obiettivi che l'Unione Europea aveva prefissato che erano in particolare il dimezzamento del numero degli eventi e degli incidenti e della lessività e mortalità per l'utenza debole. In realtà cosa succede? Giustamente la popolazione comincia ad adottare comportamenti anche utilizzando mezzi quali la bicicletta oppure percorrendo le strade da pedone, ma questo configura un rischio che si sta accentuando. In mobilità sostenibile e sicurezza come si conciliano questi due aspetti? Si conciliano se pensiamo all'investimento che la Regione sta facendo di 50 milioni di euro su una rete di 200 km di ciclovie in tutta la Regione che tengono insieme la sostenibilità perché è un modo di muoversi con mezzi che non inquinano, addirittura aiutano la salute di chi pedala e in termini di sicurezza perché si esce dal percorso stradale, si va in un percorso dedicato che permette di essere protetti in rapporto agli altri mezzi che normalmente circolano su strada. O il tema degli investimenti sulle strade negli innesti più pericolosi, sostituire un incrocio pericoloso con una rotatoria permette certamente sul fronte della sicurezza di avere un impatto completamente diverso. Aiuta anche l'ambiente perché normalmente fluidificando il traffico, quindi evitando che le auto a motore a scoppio rimangano troppo tempo ferme o rallentate permettono anche di avere meno emissioni in aria. Per quanto riguarda le Marche è stato avviato da due anni ed è in elaborazione il Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale curato dal Dicea dell'Università La Sapienza di Roma che da tempo si occupa del tema sui fronti nazionali e internazionali e che si tradurrà in seguito anche in un sito web consultabile da tutti. Abbiamo creato la struttura del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Marche e stiamo coinvolgendo tutti gli stakeholders interessati dall'Istat alle forze di Polizia, lo stesso Ministero, gli uffici regionali che ci devono fornire sempre più dati che vanno a popolare le banche dati del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale consentendo ai tecnici e agli esperti di fare delle analisi e delle elaborazioni approfondite sugli incidenti, sui flussi veicolari, sulle caratteristiche della strada e capire quali sono state le cause degli incidenti, impegnarsi a comprendere le contromisure da attuare per ridurre il numero di incidenti morti e feriti sulle strade. L'Università Politecnica delle Marche ha un nuovo defibrillatore grazie ai due Lions Club del capoluogo d'Orico, il Lions Club Ancona Host e il Lions Club Ancona Colleguasco. Il defibrillatore, donato in occasione della giornata dell'amicizia Lions che si è tenuta ad Ancona il 7 aprile 2019, è stato installato all'ingresso del polo Alfredo Trifogli della Facoltà di Ingegneria di Montedago. Questa è una collaborazione che con Lions va mostrata come una sinergica attività tra due istituzioni. Quando c'è stato questo progetto io ho accolto con molto entusiasmo questa donazione perché è un modo per interessarsi di un problema sociale molto importante e come i tanti casi che quotidianamente si verificano possono essere in qualche modo con questo defibrillatore risolti o meglio tamponati momentaneamente perché poi deve sempre intervenire l'assistenza medica specializzata. Per noi è veramente un'occasione importante perché è un atto significativo rivolto a tutti ma in particolare ai nostri studenti della Politecnica delle Marche che tanto ci onorano in campo nazionale e all'estero. Il gesto non è solo simbolico perché gli arresti cardiaci e questo è il motivo per cui abbiamo donato un defibrillatore purtroppo stanno diventando degli eventi che sono sempre più frequenti. I motivi sono diversi ma resta il fatto che da sportivi allenatissimi a chi frequenta lo sport in maniera meno pesante ma anche alla gente comune di tutti i giorni e fra questi i nostri studenti purtroppo c'è un rischio ipotetico ma esiste che questo defibrillatore debba poter essere usato. Il nostro desiderio era di manifestare in un'occasione di una festa dell'amicizia molto grande, molto coinvolgente fra le varie regioni del medio adriatico dare un segnale forte a una partecipazione in un istituto molto importante come l'Università di Ancona, la Politecnica. Lions è la più grossa associazione mondiale di servizio siamo 1.360.000 in tutto il mondo in Italia siamo 40.000 soci Il defibrillatore si augura di non usarlo mai quando serve però è un salvavita è qualcosa di maneggevole, di visibile, di utile l'Università, so che ce ne ha altri ma è molto grossa l'Università quindi i 10 minuti fatidici di intervento su una persona devono essere effettivi. Dal 2013 l'Università ha fatto un progetto che si chiama UnivPad dove Pad è la cronica di public access defibrillazione che permette a qualunque cittadino di poter utilizzare piccole competenze per fare la differenza tra salvare una vita e non per questo motivo ci sono stati dati dei defibrillatori che nel tempo abbiamo collocato all'interno di tutte le sedie universitarie oggi questo ulteriore defibrillatore completa la cerchia degli stabili in cui il defibrillatore stesso è presente e tutti possono utilizzarlo. Grazie a tutti